invito al gruppo e beh gli manca rianca che non invita blocca richiesta d'amicizia gliel'accetto però ieri io e seba ci sentivamo generosi volevamo regalare win a qualcuno ma soprattutto il gioco ci ha messo nelle trio nonostante avessimo selezionato duo e quindi sono uscite queste partite carine con un terzo random che ci ha scroccato la vittoria si fa per ridere ovviamente ma anche no lasciate un bel mi piace iscrivetevi se non l'avete fatto e godetevi le partite che sono un po' più divertenti delle solite duo via io nel decco la tronco sgravata al 12 ce l'ho non mi ricordo 11 o 12 no morta lì ho non uso l'estero io non mi chiamo xanthropos uh ma non vedo l'ora di incontrare corriamo agency tutti sono sotto davanti a me oh adesso che si so no 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 c'è agency ciao agency cavatela è scappato pure l'wasy ma quello è quello vero no cristo io te l'ho dato pvz amico il clan top piante contro zombie sono indeciso che piglio no hai preso caricatore ma porca godo ti sei preso tu l'R99 devi soddisfare i tuoi sub di fare un sub day mhm 83 all'acqua che entra e questo? ah ok va bene minchia è la terza casa yogurt muller bianco non è male con la nutella ma potete sparare anche a zantropatata è quello la sinistra mia giusto per info se vi va di sapere uno no che l'altro era one eh infatti anche l'altro stanno sparando no è buonissimo fidati eh va lui va lui ricarico carico gli scudi no fammi un guazzo di dp vabbè copro via copro via è da lontanissimo è da lontanissimo sono ma è stupido molto stupido 158 a chi? al sir da te da me? eh 40 non lo riuscivo a colpire carabina? godo tanto godo godo comunque io mi riguarderei da quello che hai detto perché hai dato dello stupido a un ragazzo italiano gg ma perché? eh è locked in era un team italiano ma in base a cosa? perché aveva ita nel tag clan yata yata ah yata non ita avevo letto ita ok io faccio il giro da dietro a questi qua loro sparavano un team a destra però questi qua stanno beccando perché hanno preso il bazzo ma venti me ne lasciate oh no no ce n'erano 80 di fianco io mi tilto se non prendo un knock qua mi tilto la bengalore l'avete knockata cazzo aveva 2 hp gg che palla ma sempre lui? si si lui one shot il sir gg va bene va bene va bene va bene sciallo vai che palla assurdo io non ho altro da dire assurdo sto qua assurdo cioè ma i no io 4 ma son 4 prorompenti cazzo la bengalore l'ho fatto 182 volte al sir ho fatto il cazzo cioè la seconda volta che hai fatto 60 ok vabbè ho capito io ho 100 quindi fanculo oserei dire al sir qua 170 tipo su 175 pure qua dentro mi sa che si è preso la kill di termite facendo immagino non troppo ma sopra o sotto ultimo team davanti a me davanti a me cracata valk pitata flash pure ma non sanno neanche di voi forse non so se vanno tutti 1 e 1 shot locked in dai 120 l'ho fatto tu ma chi ha locked in no 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 la valk io 0 avevo colpito l'ho locked in ah no l'ho erano locked in 0 no forse si l'ho hitata prima non lo so io ho sparato a bazzo adesso lo sapevo i knew it grandissima jans cazzo ha fatto più due assist boxaro però il nome da giocatore decente non me ne ero neanche accorto mortal ma va bene cioè si è vero ce l'ho danciata una settimana non mi ricordo perché però è da una settimana che c'è a una sto sotto qua mi guardo a destra a destra è no loot quindi sono andati col pallone vicino 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 sì sì qua craccato blu a due di scudo questo è quasi one shot poveretto ma era lo stesso di prima sì che vuol dire lo stesso di prima sì sì era lui era lui quello che ho notato era quello che ho colpito prima è l'ultimo da me ok ti stavo dicendo occhio che il mirage non c'è dai andate in culo va bene ho l'ultimate di watson mi curo così gg per lei che me l'ha piazzata davanti a me l'endano ah no è il mirage di me infatti sembrava andassero proprio dritto dritto pure madonna mi sento questo mirage attaccato al culo levati sì sì sono due team anche l'altro quasi appena jump addio vado da quello questo qua sul tetto è da solo colpito di nuovo poco 19 solo è all'entrata del bunker è morto 122 rosso cioè viola ma è diventato rosso di vita entrambi i one shot sia caustic che mirage un hp un hp in due anche la valkyrie ce la facciamo a romper a far esplodere almeno una trappola questa trappola me la fai esplodere questa questa sono le porte no loro cioè vabbè vaffanculo ho sparato a vuoto ah ma ha fatto un knock lui è l'ultimo e io ho fatto la cazzata volevo andare a prendermi ok ci sta volevo volevo entrare c'era il tipo che mi bloccava one shot lifeline ma anche l'altra c'è il pat tank 42 viola ma io voglio farmi impianto con i dietro e non so che fine che abbiamo fatto quasi one shot il mirage è morto quello sta da solo quello a destra sta da solo craccatissimo uno io ho fatto uno dell'altro team l'ultimo sto restando in open e io pure l'ho finita già finita non fa niente venga l'or one shot vai 170 vai più o meno 170 più o meno vabbè 10 squadra annientata rimangono solo due squadre ricarico hai one shot la valka tanto ho preso i loro due è il nostro stronzetto con la zipline si ok madonna come si sono messi ho 69 leggera ma tanto la prossima sicuro non chiuderà perché deve essere più o meno io ho paura il compagno secondo me ci lascio anche secondo me molto probabile faccio la viola al drop GG forse lo posso restare lo puoi restare tu copri lo puoi restare vai vai io non ho fatto niente devo smetterla di sparare no sono safe lo so ma la prossima intendo non lo saranno vabbè ci basta aspettare questo qua però è un coglionazzo cioè questo qua è un coglionazzo la deve smettere one shot valk cosa cazzo fa cosa cazzo fa vai easy chiude qua abbiamo vinto se chiude la che problemi ha ma che problemi ha aspetta mettigli difendi la posizione così capisci che vuoi fare non ci arrivo sopra io non ci arrivo ho la zip ma non voglio essere laser esatto è perché io di jump non ci arrivo arrivo a pelo vabbè ma erano solo due a saperlo prima ma io sapevo e dillo io non me ne ero neanche accorto che infame comunque vuoi aspettare sì e poi va vabbè gg per lui è una grande carriata stupido tipo 5 volte a terra prego bra citta e forte vabbè la sua giornata fortunata invito al gruppo ehmbe gli manca a rianca che non invita blocca richiesta d'amicizia gliel'accetto però B this bittersweet heat is suffocating hi waiting and always hesitating kryptonite desire set my heart a fire I don't fly